guarda chi c'è preparati amico o la va o la spacca non vedo l'ora baci quando hai finito le tue cose ok ci vediamo la a dopo io però devo spaccare il culo a questi deficienti dove deve andare tu eh caro John adios porca puttana la policia bello ma che fai? devi dimostrare quanto vali ti ricordi di brin al royal park vero? si beh non importa vuole sfidarti in una gara testa a testa fatti avanti a dopo ehi sono robin vado a provare un paio di posti attorno a bay vuoi venire? ok allora magari ci vediamo eh certo sto arrivando ce l'hai fatta? grande allora sotto god 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 Grazie a tutti.